Buongiorno a tutti da Ermanno Frassoni, Motorphone TV. Oggi siamo con Paolo Principale, disegnatore per il team Eurobrun Racing di Formula 1 nel mondiale del 1989, per parlare in particolare della Eurobrun ER189. Benvenuto Paolo innanzitutto e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te Ermanno e saluto tutti quelli che guarderanno questo video. Per prima cosa, come sei entrato a far parte del team Eurobrun Racing? Avevi precedenti esperienze nel motorsport quando sei stato assunto da questa squadra di Formula 1? Dunque, io vengo da una famiglia normalissima che non aveva alcuna passione per il motorsport, né mio padre né tanto meno mia madre. Io invece questa passione che l'ho coltivata da quando facevo le scuole medie, praticamente ho conosciuto il motorsport, ma ero da solo. Essendo qui in un paese piccolino, ero praticamente da solo a avere questa passione. E l'ho coltivata, diciamo, per sempre, fino adesso. E quando ho raggiunto la maturità e sono diventato un perito meccanico, praticamente io volevo fare il disegnatore meccanico. A me piaceva la meccanica, più progettarla che farla. Allora c'era il tavolo da disegno. Diciamo che fra le mie ispirazioni massime era quella di poter lavorare nel motorsport. A qualsiasi livello, dal rally alla Formula 1 al gruppo C, l'importante è che fosse auto da corsa. Auto, non moto. E diciamo che questa cosa qui praticamente l'ho portata avanti fino alle estreme conseguenze. Cioè io appena sapevo, tramite giornali, che c'era qualche team della mia zona che cercava. Io telefonavo, facevo telefonate, telefonavo 30-40 volte. Insomma, praticamente molta gente mi ha mandato anche a spendere perché ero veramente insistente. Finché non trovai, non provai a telefonare a Pavanello. E lui sorprendentemente mi chiamò. Mi chiamò e mi disse, se puoi venire qua a Milano, noi abbiamo proprio bisogno di un disegnatore. E io praticamente, senza essere mai andato prima a Milano, avevo 24 anni. E si parla dagli anni 80, cioè un'era geologica fa. E praticamente presi il treno, andai a Milano, poi quando arrivai in stazione centrale presi un taxi, andai a Senago. E feci aspettare lì, spesi un botto di taxi perché lo feci aspettare un'ora, un'ora e mezza. Perché se no, come facevo dopo a tornare indietro, non sapevo niente, non conoscevo nulla di quella zona. Mi feci il colloquio e mi assunse in seduta stante. Una cosa che per me ancora adesso è un mistero. Ed è per questo che io, verso di lui, ho la massima riconoscenza. Perché cosa ha visto lui in me, io non lo so. Probabilmente avrà visto che io avevo molto entusiasmo, esperienza zero. Però magari gli serviva proprio una persona così. Posso pensare. Il consiglio è quello di darsi molto da fare, diciamo. Beh, questo in tutte le cose, chiaramente. Bisogna rompere le scatole, rompere le scatole, non aver paura di rompere le scatole e non sentirsi, come posso dire, avviliti quando magari la gente, perché tu gli hai rotto troppo le scatole, ti manda a quel paese. Perché se uno non ha conoscenze, se uno non ha un retroterra culturale e familiare, in questo ambiente qui, se vuole arrivare, si deve arrangiare. E questa è una cosa che, voglio dire, consiglio a tutti. Però, prima bisogna avere l'istruzione adeguata. Io sarei potuto andare all'università e non ho voluto farlo perché sono voluto andare subito a lavorare. E adesso se vuoi lavorare nel motosport, gioco a forza, devi essere per forza laureato. E non laureato e basta, laureato col massimo dei voti. Questa è una cosa che so, ho visto e quindi la consiglio ovviamente a tutti quanti, fatevi una solida base formativa e poi vedrete che se siete bravi e preparati ci sarà da altre gente che vi dà la mano. Perché vedi in voi... Sicuramente, dicevo, per lavorare in ambito tecnico, sicuramente una laurea serve. Beh, serve sì, assolutamente. Cioè, ai miei tempi bastava essere un perito meccanico perché non c'era... Sì, c'era gli erbori della progettazione cat cam. Infatti sì, infatti lì abbiamo sempre lavorato con il tavolo da disegno. Diciamo che tutte queste cose della gare del vento esistevano, ma non a questi livelli qui che sono ultra sofisticati. E per lavorare con queste cose qui, diciamo che l'assetto delle vetture era dato più da ingegneri di pista con 20-30 anni di esperienza. Adesso invece l'assetto di pista lo fai con i simulatori, con queste cose qui. Che voglio dire, se non hai una buona laurea, una buona base culturale, formativa, non ci fai niente. Cioè, lo stesso per fare il disegnatore. Negli uffici tecnici adesso vogliono della gente che non solo disegni, disegni e poi dopo testi il suo pezzo, il pezzo che ha fatto, i pezzi o lo studio che ha fatto, in maniera teorica. Cioè, attraverso calcoli, programmi di calcolo. Queste cose qui, quando sei perito, non le fai, perché ti danno un'infarinatura per poter andare verso l'università. Quindi è per quello che dico, andate in un'università, prendete una buona laurea, cercate di spendervi molto per questa laurea qui, e poi quando vi siete laureati non abbiate paura di rompere le scatole. Ma in cosa consisteva, più in dettaglio, il tuo ruolo in Eurobrun nel 1989? Io praticamente facevo il particolarista. Io lavoravo sia alle dipendenze di Ori, che alle dipendenze di un altro disegnatore. Bruno Zava, sono tanti anni che ho dovuto fare un po' di ricerca mentale. Questo Bruno Zava qui veniva dall'epoca dell'autodetta di Chiti, ed era rimasto lì con Pavanello, perché Pavanello lo conosceva dai tempi dell'Euroracing. Diciamo che, grosso modo, Roberto Ori seguiva l'anteriore della vettura, il telaio fino al serbatoio. Invece Bruno Zava seguì l'installazione del motore, il cambio, e tutta la sospensione posteriore, il fondopiatto, e penso anche, no, il fondopiatto e basta. E gli allettoni, naturalmente, l'allettono. E quindi, praticamente, loro facevano gli studi, che erano grandi studi fatti sul tavolo da disegno, dove io estrapolavo i pezzi, li disegnavo, e poi dopo li davo all'ufficio commerciale, che andavo a ricercare il fonditore per poterlo fare. Spesso e volentieri erano pezzettini molto semplici, che si facevano dentro, perché dentro c'era una fresa, c'era un fresatore molto bravo, molto abile, che faceva i pezzi. Sulla base di quelli che sono i tuoi ricordi, sai dirmi perché il team Eurobrun affrontò i primi otto Gran Premi, se non sbaglio, del 1989, con la ER-188B, quindi una ER-188 aggiornata, se vogliamo. Ma guarda, io sapevo molto poco delle strategie aziendali all'epoca, anche perché ero l'ultimo arrivato e, come si dice, l'ultima ruota del carro. Però posso pensare che l'arrivo della macchina nuova fosse stato, generalmente è così, fosse stato deciso e pianificato, diciamo, in data molto avanti rispetto all'inizio del campionato. Quindi probabilmente avranno pensato, il campionato lo iniziamo con la macchina vecchia, che magari facciamo delle migliorie, perché la macchina che fece Tolentino non aveva, per esempio, la presa d'aria centrale, mentre invece su quella modificata gli fecero la presa d'aria centrale. Le pance erano diverse, per cui loro partirono con una... Tutto quanto questo fu fatto in casa. Quando io arrivai, io mi ricordo che c'era il manichino fatto in casa, dove stavano appunto facendo gli stampi. E quindi loro partivano da quella macchina lì modificata, aspettando che arrivasse la macchina nuova che doveva arrivare dall'Inghilterra. Ed era un progetto di George Raiton. Ma quali erano le differenze appunto tra la Eurobrun R188 e la R188B? Queste qua che mi dicevi sostanzialmente. Sì, 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 assolutamente sì. Sì, poi dopo ci fu... Adesso devo fare anche l'invento locale, perché sono passati tanti anni. Ci fu qualche... Qualche elemento che fu trasferito dalla macchina nuova che doveva ancora uscire a quella che correva, tipo gli alettoni, perché gli alettoni che c'erano sulla macchina vecchia non erano proprio per niente efficaci. Per cui furono... Questi alettoni sia davanti che di dietro furono adattati alla macchina nuova e furono provati. Quando fecero lo shakedown a Monza col motore... Ah, c'era anche... Ah, ecco, scusa. C'era anche il discorso del motore Jad. Adesso ci arriveremo. C'era anche il discorso del motore Jad che passò dal Cosworth Mother si passò al Jad che era un ex motore, mi sembra, della Williams. Era la Williams che aveva dismesso i Jad perché all'epoca aveva cominciato la collaborazione con la Renault. Infatti volevo un po' chiederti cosa significò passare da questo vuoto Ford Cosworth che equipaggiava la Eurobrun dell'88 al V8 Jad dell'89. Poi tra l'altro cambiò anche la fornitura del carburante se non sbaglio da Elfa ad Agip. Sì, ma quelli lì sono accordi commerciali e non credo che l'Eurobrun avesse la benzina speciale. Io non sapevo questo... Allora, premetto che io all'epoca ero un neofita quindi ripeto, ero l'ultima volta del carro e venivo le cose a sapere per terzi. per terze persone. Anche perché avevo abbastanza timore sul Ford dell'ufficio tecnico. Andavo sì in officina a vedere così cose però insomma cercavo di farmi vedere sempre al tavolo del lavoro. Insomma, sai com'è? Cioè, quello è il mio lavoro, quello è il mio mestiere non posso andare in giro a fare... Diciamo che il discorso del motore è sicuramente interessante questo cambio. Ma il discorso del motore secondo me fu sempre un'idea di Walter Brun che praticamente all'epoca aveva un consigliere sempre svizzero che era quello lì da quello che so io e da quello che mi dissero che era quello che aveva imbastito tutto quanto il discorso di George Rayton della macchina nuova fatta in Inghilterra a Basildon e probabilmente probabilmente sai, in Inghilterra è facile avere certi tipi di contatti per cui alla fine magari qualche d'uno che era nel giro dei Jad avrà detto con questi qua guardate che noi abbiamo questi motori qua che sono sicuramente più performanti del Cosworth però purtroppo non dissero che il Jad è molto delicato essendo più performante è anche più delicato e soprattutto se non gli dai un'adeguata lubrificazione fatta in una certa maniera d'olio il motore scoppia e infatti in due giorni a Monza sono scoppiati due motori ma facendo sei giri in complesso non facendo 150 giri facendo sei giri il primo giorno dopo tre giri all'uscita della parabolica scoppiò il motore ma scoppiò cioè nel senso che saltò la parte bassa del motore le bielle si piantarono contro la testa cioè una roba io è una roba devastante che non l'ho mai più visto dopo e e così fu anche il secondo motore per cui quando tornarono quando tornarono il secondo giorno andai anch'io chiesi chiesi il permesso a Pamanello Pamanello mi diceva bene se ti fa piacere vieni e lì anche lì mi ricordo che c'era Romulo Tavoni che allora era il direttore dell'autodromo di Monza che venne da noi a dirci oh se stavolta fate scoppiare ancora il motore il filler ve lo faccio pagare una volta può può capitare la seconda volta mi faccio pagare questo e quello di ieri e e e il motore scoppiò dopo due giri due giri e mezzo sempre l'uscita dalla parabolica e praticamente scoprimmo che la lubrificazione che andava bene per il Cosworth non andava bene per il per il Giad c'erano alcune controindicazioni diciamo piuttosto serie però il Giad ma diciamo che l'olio l'olio il motore avendo il coppa secco stava dentro una parte del cambio e un ricettacolo dentro al cambio che era solo per l'olio per l'olio per l'olio motore e la succhierola come si chiama in gelo tecnico quello che succhia l'olio lo manda al motore tramite la pompa che è sul motore era posizionata in una non c'era un incavo uno scavo dentro al cambio era una superficie piatta e quindi quando l'olio nelle curve andava da una parte all'altra la succhierola rimaneva per un secondo due secondi tre secondi scoperta e quindi lì succhiava aria non succhiava olio per cui alla fine si scoprì che era quello il discorso era un motore molto prestazionale però aveva aveva bisogno non di succhiare aria diciamo così ma di succhiare sempre e soltanto olio poi se tu pensi che l'olio girava il motore girava 10-12 mila gira adesso non vuole dire un'inesattezza quindi l'olio non era più olio era un'emulsione era un'emulsione e quindi l'emulsione già di per sé è ricca di aria in camera dell'aria se poi tu non gli dai proprio olio cioè il motore ne risente infatti dopo dopo tre giri all'uscita della parabolica che è una curva in appoggio dove praticamente per molti secondi l'olio sta attaccato a una parete laterale e la succherola era tutta scoperta lì infatti all'uscita il motore è scoppiato ma quali erano le aspettative dei vertici Eurobrun e quelle di voi dipendenti nel momento del debutto dell'ER189 quindi la nuova vettura che se ricordo bene arrivò in Germania a Luglio sì io da parte mia ero entusiasta perché si vedeva veramente un netto cambio le premesse erano le premesse erano grosse erano insomma erano grandi c'era dell'attesa diciamo c'era dell'attesa sì perché il progettista andava a dire in giro e questo lo dico io perché l'ho sentito io Giorgio Letto andava a dire in giro che lui era stato quello che aveva disegnato la papera Ferrari e non cioè Barnard era quello che gestiva il lavoro non era Barnard il progettista era lui che l'aveva fatta la papera e infatti quella macchina lì diciamo che per certi versi se tu provi a guardare soprattutto il frontale la papera era più squadrata quella invece era più rotta andata c'era una somiglianza possiamo dire c'era una somiglianza e la Ferrari aveva le pance alte e strette mentre noi avevamo le pance abbastanza basse e larghe e diciamo che la macchina poi quando abbiamo visto che c'era tu sei dipinta di Aracione con quello sponsor Ieri il Meister grande mi hanno detto cazzo qui abbiamo trovato hanno trovato lo sponsorone qui stiamo a posto e però poi dopo Hockenheim mi disse un ragazzo mi disse un ragazzo che lavorava con con Pierluigi Colbari mi disse che fu un mazzo disastro perché praticamente la prima uscita che fece Hockenheim in fondo al curvone sopra dove c'era una chicane lì alla chicane alla prima uscita proprio esce fuori la macchina fai la chicane ci sono piegati i puntoni della sospensione uno e l'altro proprio è tornata dentro quei puntoni che erano che erano piegati quindi c'erano anche degli errori macroscopici di progettazione che da uno che ha fatto la papera non credo che ci potessero essere insomma ma sai dirmi per quale motivo venne scelta appunto questa bellissima livrea arancio una delle più belle vista in Formula 1 fu per via essenzialmente dello sponsor Jäger Meister secondo te? ma io posso pensare e lo penso io questo è un mio pensiero essendo Jäger Meister uno sponsor storico di Walter Brun probabilmente lui per l'occasione avrà pensato di dirottare la sponsorizzazione anche sulla Formula 1 per dare enfasi all'evento insomma ecco e questo qui è l'unico pensiero che mi viene in mente sì 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 e qual è il tuo parere personale invece sui piloti della Eurobrun nel 1989 cioè lo svizzero Gregor Feutek ricordiamo che poi lascerà il team dopo il Belgio venendo sostituito da Oscar Larrauri che già era stato in squadra nell'88 ma Gregor Feutek mi sembra e questo lo dico sempre io io non conoscevo i piloti ripeto era la mia primissima esperienza io ero un appassionato ma non ero un esperto e quindi non ero esperto di tecnica né tantomeno figurati di piloti sì conoscevo i piloti dell'epoca Piquet Prost Mansell però Gregor Feutek sapevo che veniva dalla Formula 3000 sapevo che era stato uno dei produttori dei decidenti che probabilmente sono costate le gambe a Herbert però insomma secondo me Feutek magari ce l'aveva come dicono a Napoli la Casima però non lo faceva vedere cioè sembrava sembrava uno che fosse lì per caso era all'epoca mi ricordo io andai a Imola perché a Imola ce l'ho a 30 km da casa mia andai a vedere le prove andai a vedere le prove andai a vedere le prove nel box dell'Eurobro e praticamente mi sembrava che fosse più convolto il padre che lui probabilmente magari il suo carattere era così freddo lui essendo svizzero non si faceva prendere dalle emozioni però mi sembrava che fosse il padre che caricava più di era più carico di aspettative rispetto al figlio questo è quello che ho visto io e che credo di poter cioè è il mio pensiero personale per quanto riguarda Oscar Larauri l'ho conosciuto poco era il pilota storico di Pavanello ed era anche il pilota di Walter Bruno e quindi probabilmente avranno fatto una scelta interna per non spendere dei soldi magari avranno trovato avranno detto se dobbiamo prendere un altro pilota come Forte che magari non ci dà niente prendiamo Oscar Larauri che è un usato sicuro insomma che già conosceva la squadra avendoci scocso assolutamente sì avendoci scocso l'anno primo però la squadra era cambiata di molto anche nei meccanici soprattutto perché correvano con una macchina sola e non con infatti volevo appunto chiederti se ricordi come mai la Robru scelse di concentrarsi su una sola vettura nell'89 dopo che nell'88 invece ne schierava due non lo so ti dico la verità non lo so probabilmente l'anno prima avevano avevano impostato un programma con Oscar Larauri poi dopo all'ultimo momento trovavano l'occasione di ingaggiare anche Stefano Modena che era molto quotato all'epoca e magari mi sembra che Modena gli portò anche degli sponsor poi magari probabilmente quella condizione lì è venuta meno per cui alla fine avranno pensato partiamo così anche perché molti soldi li dovete dirottare verso la costruzione della macchina nuova che era fatta in Inghilterra e a sentirvi gli altri era stata fatta senza senza economia ma secondo te cosa è mancato all'Eurobrun R189 per lasciare un segno più tangibile in Formula 1 di certo le prequalifiche possiamo dire che non hanno acevolato il compito alla squadra domanda domanda difficile ma insomma le prequalifiche non erano non erano certamente la panacea cioè nel senso le preferibili le prequalifiche ti seccavano le gambe già al venerdì mattina alle 7 alle 8 della mattina eri già fuori e dire una cosa pazzesca cioè tu se correvi in Europa sabato mattina eri già a casa col camion per dire anche perché era così perché Bernie Anclis non mi diceva che quelli che non passavano prequalifiche che li cacciava fuori dai paddock cioè proprio fuori fuori dalle scartole tornatevene a casa tanto che cosa state a fare qua fino al Gran Premio perché non correte quindi ci abbiamo bisogno di spazio e quindi fuori probabilmente era per quello probabilmente mancava esperienza nelle persone un discorso è un mix è un mix di responsabilità anche un discorso relativo al budget a disposizione probabilmente dunque da quello che posso pensare io e da quello che avevo capito loro spesero tutti i soldi per fare la macchina nuova perché appunto fatta senza economie là in Inghilterra e infatti l'anno dopo da quello che so io di modificio cioè la macchina era paro paro quella lì che era quella che correva con l'Angels e Roberto Moreno la R189B sì che poi di B io non so cosa avesse perché se uno guarda le foto è uguale ma c'era cambiata e cambiò la veneciatura però già mi sembra che all'epoca già era innato un disimpegno di Brun e si andava avanti per l'inerzia per finire il campionato e poi dopo ritirarsi diciamo che c'erano molte più differenze tra la 188 e la 188B piuttosto che tra la 189 e la 189B sicuramente beh sì chiaro la macchina del primo anno era molto diversa rispetto alla macchina che corse i primi Gran Premi fino a Hockenheim sì era cambiato diciamo il motore era cambiato le pance laterali era cambiato lo snorkel gli allettoni insomma diverse cose non cambiare la scocca era sempre quella però insomma diverse cose erano cambiate volevo anche chiederti che ricordi hai del management Eurobrun mi riferisco in particolare a Walter Brun appunto Gianpaolo Pavanello ad Euroeuro Racing e a Pierluigi Corpari che era un manager molto caro a Bernie Eccleston mi risulta che arrivò in squadra proprio nel 1989 dunque partiamo da Pavanello premesso che io a Pavanello devo tutto perché se ho potuto lavorare nell'ambiente della Formula 1 lo devo a lui perché fu quello che credete cioè credete in me volente o non volente fu quello che mi ha piaciuto quindi alla fine qualche cosa in match avrà visto io ricordo che molte volte Pavanello veniva a parlare soprattutto quando al ritorno dei Gran Premi a lunedì o il martedì veniva a parlare in ufficio tecnico che si confrontava con tutti noi poi naturalmente io stavo zitto perché ripeto era l'ultimo del carro che consiglio potevo dare nessuno però parlava con Bruno Zava di cui aveva una grande considerazione parlava con Roberto Ori perché era lì e si facevano delle discussioni però lui era era molto convinto che il suo modo di preparare la macchina fosse l'unico giusto e probabilmente secondo me lui li spagliava un po' Pierluigi Cormari era il direttore sportivo e quindi diciamo di tecnica non credo non credo che fosse il suo pane lui era quello che gestiva i rapporti del team con Ecclestone essendo grande amico di Ecclestone posso pensare ma non lo so ma posso pensare che magari l'Eurobrun avrà avuto dei piccoli favori tipo il posizionamento del team al giovedì quando arrivi dove mettiamo il camion perché era poi sempre gli uomini di Eberne che decidevano dove mettere i camion adesso no c'è tutta una lista cioè praticamente in base al piazzamento che hai avuto l'anno prima c'è il tuo piazzamento al box cioè nella posizione più agevolata ci va il campione del mondo e a seguire che è arrivato secondo terzo quarto allora e gli ultimi team quelli delle preferifiche magari venivano mandati fuori non avevano neanche l'accesso ai box posso pensare così di Pierluigi Corbari però era un bravo manager era uno che veniva anche lui dall'autodelta era il nipote di di Rankati il giornalista dell'epoca insomma era uno che secondo me ai box si faceva valere e per un team che doveva fare preferifiche c'era bisogno anche di un personaggio così e su Walter cosa mi dici Walter Brun che sappia io non si è mai palesato lì a Senago mai visto io so spesso e volentieri che sia Pavanello che Pierluigi Corbari dovevano prendersi su almeno due volte al mese e andare là perché probabilmente gli chiedevano soldi non lo so magari c'era da pagare gli stipendi queste qui sono mie considerazioni però io so che spesso e volentieri erano loro che si spostavano andavano a Lucerna a casa a casa di Brun ma io Brun lì non l'ho mai visto invece George Wright non l'hai mai visto lì a Senago sì 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 assolutamente George Wright era molto pieno di sé diciamo che gli mancava la parte di esperienza in pista e probabilmente come disegnatore era anche un bravo disegnatore però era un disegnatore non credo fosse un progettista anche se poi dopo le esperienze che ha avuto e quello che ho visto che ha fatto in Ferrari e in Minardi magari sai con gli anni di esperienza da disegnatore diventi diventi un progettista per cui alla fine invece di gestire dei particolari gestissi un assieme gestissi gli uomini che lavorano insieme a te anche quello è essere progettista gli fai collaborare gli fai lavorare insieme gli fai interagire cioè sono tutte caratteristiche che deve avere un progettista globale di un'auto per cui probabilmente all'epoca secondo me era ancora era uno che era era stato abituato a prendere ordini e con noi con l'esperienza di Rubroon era uno invece che doveva coordinare e quindi era le prime esperienze sicuramente in Ferrari e in Minardi queste esperienze qui erano già più consolidate per cui riusciva riusciva a far bene il suo mestiere insomma lì da noi lì da noi secondo me lui aveva dei buoni collaboratori dei buoni disegnatori e tutta gente a vedere i disegni che facevano perché molti disegni arrivavano dall'Inghilterra fatti dai disegnatori inglesi che io dovevo praticamente ridisegnare e riscrivere in italiano per i per i fornitori italiani e quindi io vedevo i disegni e rimanevo a bocca aperta perché erano veramente fatti bene con una scrittura ineccepibile e per quello che me l'ho fatto la mia convinzione che lui avesse dei buoni collaboratori dei disegni suoi non ne ho mai visti io ho visto più che altro dei disegni di un di un tale Tim Fist che veniva dalla Lotus più ce n'era un altro che veniva dalla T-Rail quindi aveva aveva della gente competente sotto 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 disegno ma più in generale che clima si respirava nel quartier generale dell'Eurobrun che era appunto a Senago vicino a Milano ma sai io non posso non posso avere una una visione voglio dire negativa perché per me era tutto bello per me era come vivere in un io stavo vivendo un sogno stavo vivendo un sogno non c'era non c'era occasione di stare lì tanto tardi alla sera ma se mi avessero detto di rimanere lì fino a mezzanotte luna tutte le sere che ha fatto Gesù Cristo io ci sarei stato senza problema per cui voglio dire noi stavamo bene noi tutti sia disegnatori che tecnici non avevamo particolari pressioni almeno io ricordo così chiaramente il non qualificarsi sempre cioè alla fine voglio dire se tu fai quel mestiere lì devi avere anche questo tipo di soddisfazione se non ce li hai mai cioè diventa un po' dura diventa un po' dura ecco lì se ne risentivo abbastanza e naturalmente quando poi ci sono queste cose qui sai si incomincia a morborare ma queste sono cose normali però insomma in definitiva diciamo che l'ambiente era abbastanza era abbastanza gasato come come aspirazione insomma come obiettivi insomma ecco anche perché vedevi vedevi che c'erano delle cose in movimento cambio motore cambio macchina sponsor nuovo insomma vedevi che dietro c'era della gente che lavorava per portare la macchina però poi dopo c'era il discorso della macchina che era difficile nella messa a punto non capito non capito perché nelle ultime due gare del mondiale di formula 1 del 1989 cioè Giappone e Australia Laura Rovrun ha abbandonato la livrea arancio Jägermeister per diventare tutta nera è una questione magari legata al posto della vernice avevo anche sentito qualcosa no 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 più semplicemente c'era era tutta nera con la scritta Alfa Alfa con la F PH e era uno sponsor giapponese che anche questo qui era uno sponsor di Walter Brown e probabilmente essendo giapponese avendo magari interesse in Australia posso pensare avranno pensato sempre commercialmente di magari la Jägermeister che ne so all'epoca non era conosciuta non credo però magari non era conosciuta né in Giappone né in era molto più significativo avere questo sponsor qui anche perché probabilmente lo sponsor giapponese avrà pagato un extra perché la sua scritta ci fosse ma queste qui sono mie considerazioni cioè sono cose mie che posso che ho pensato poi nel tempo ricordi magari che azienda era questa Alfa di cosa produceva no assolutamente no quindi io so che era uno sponsor era uno sponsor che faceva sempre parte del del Walter Brown Racing che quando correva con le Porsche cos'era 962 quella di gruppo C poi dopo non so non so cosa fosse non so magari si arrivò quindi a un cambio di livrea totale nel senso che diventò appunto tutta nera l'Eurobrun per le ultime due tappe dell'ottanta sì 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 so che dopo una sola stagione appunto hai lasciato l'Eurobrun ma secondo te quindi la R189B che abbiamo detto che era un po' come la R189 alla fine pensavo che è riuscita a superare in cinque occasioni lo scoglio delle prequalifiche come c'è riuscita secondo te visto che sostanzialmente era la vettura dell'anno prima nel primo anno però passò le prequalifiche nel 90 parliamo nel 90 con Morena ah nel 90 beh insomma nel 90 io non c'ero più all'epoca però nel mese di dicembre si stava già organizzando si stava già definendo l'ingaggio di Pupo Moreno che era un pilota era un pilota molto quotato cioè con lo dottore il Ferrari con lo dottore il Lotus non era un fesso e secondo me molte di queste qualifiche qui lo si deve soprattutto a lui insomma anche perché mi dicevano che la macchina in certi circuiti era abbastanza era abbastanza pericolosa non è il termine giusto era abbastanza inguidabile un po' imprevedibile era un po' imprevedibile e lui rischiava molto ma rischiava veramente tanto e questo qui tutto il team gliene era grato soprattutto i meccanici erano veramente ammagliati dal suo stile di guida dal suo modo di fare quando c'è era un pilota era un pilota che secondo me poteva fare molto di più in Formula 1 purtroppo ha avuto dei momenti un po' particolari è stato in Benetton quando è arrivato Michael Schumacher per cui dopo l'hanno mandato via insomma voglio dire non è stato neanche fortunato di suo ecco insomma però era uno che sapeva sapeva guidare dopo il 1989 in Eurobrun sei andato alla Minardi oggi rifaresti la stessa scelta oppure no? beh sì la rifarei chiaro Minardi è stato un buon passo in avanti diciamo che c'era una spanna di differenze insomma ecco anche di più fra l'organizzazione Minardi e l'organizzazione Eurobrun infatti lo si vedeva anche dal numero di persone che facevano parte del team Minardi e dal numero di persone che facevano parte del team Eurobrun che erano esattamente il doppio se non il triplo e poi allora quanti eravate nell'89 in Eurobrun? all'incirca diciamo una trentina di persone al massimo e sempre considerato che nel 89 io non ho visto che ci sono state integrazioni di meccanici quando ci sono state due macchine però nel 90 vi ricordo molto bene che in Minardi eravamo in più di 70 persone non c'era la gare del vento la gare del vento andavano a Cranfield in Inghilterra c'era un aerodinamico come Nigel Copperwhite che veniva dalla Lotus aveva lavorato con Gerardo Caruso che dopo Nigel andò a finire in Scudere Italia quando correva Martini e JJ Leto poi c'era Aldo Costa insomma un altro ambiente no senza nulla togliere a Roberto Ori che era che era un bravo progettista e a Bruno Zava che era veramente la parte storica del team lì in Minardi diciamo che la struttura era tutta un'altra cosa c'era proprio era proprio l'ingenializzazione del progetto quindi una gestione differente diciamo rispetto a Laura Brun nel 1991 sei un dipendente della Coloni in Formula 1 che è all'ultimo anno nel senso che poi nel 92 arriverà quella lì quella lì fu una cosa veramente cioè sono stato veramente è praticamente quella che mi ha segato le gambe per il mio futuro in Formula 1 perché sono stato veramente un cretino detta come va detta perché io all'epoca non conoscevo i miei limiti essendo molto giovane sai aspiri a fare tutto pensi di poter fare tutto invece ci sono dei limiti ci sono dei paletti che tu devi devi considerare subito devi avere subito a mente bene dove tu puoi lavorare dentro quei paletti e fare delle cose bellissime ma se tu esci fuori da queste paletti e vai in campi che tu non conosci ci fai delle figure barbino e io all'epoca diciamo che lasciando la Minardi in malo modo litigando anche con litigando parlando diciamo vociando ad alta voce con Aldo Costa e con con le presviette Minardi non è che proprio cioè andai in coloni pensando di poter fare il progettista totale mentre invece ripeto come ho detto prima all'inizio di intervista per fare progettista ci vuole ben altre cose insomma bisogna avere una preparazione scolastica che io non avevo insomma io pensavo di poterla fare nella mia ingenuità di potercela avere con due anni di esperienza ma queste sono cose che vanno avanti molto di più negli anni capito e e soprattutto come posso dire Coloni era era l'ultimo anno aveva trovato questo pilota qui io credo Pedro Chavez che gli dà questa grande responsabilizzazione della della Matteus e allora lui riuscì a trovare i soldi per andare avanti un altro anno in Formula 1 ma la macchina era la stessa era la stessa con cui aveva corso Moreno e e quell'altro e quell'altro pilota francese che non mi ricordo più il nome Raffanel Raffanel perfetto quella con lo sponsor Aymond quella sì che era come sponsorizzazione come macchina quella sì che era un'occasione unica quella sì che fu un'occasione unica per Coloni per poter fare la differenza in Formula 1 chiaramente non a livelli della Brabham o della Williams però insomma potevi diventare un team di media fascia ma la macchina che c'aveva Pedro Chalf mi dispiace ma era la stessa che correva da tre anni qualche piccola leggermente rivisitata magari ma poco immagino diciamo così dai a proposito di Andrea Moda Formula che appunto arriverà nel 92 al posto della Coloni possiamo dire per caso ti fu proposto dal nuovo titolare Andrea Sassetti di restare nel team oppure no 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 ma io andai via giugno io andai via giugno dell'anno prima perché mi ero riproposto che alla prima difficoltà finanziaria io me ne sarei andato perché all'epoca avevo una situazione coniugale con una figlia piccola per cui avevo bisogno di portare a casa i soldi e se mancava questa cosa qui per me non c'era non c'era non c'era come posso dire non c'era verso che io potessi rimanere lì quindi è la prima volta che lui ha mi ha pagato non la cifra intera ma una parte della cifra che avevamo concordato tutti i mesi io me ne andai salutai salutai cordialmente stavolta fui più furbo non sbattei la porta me ne andai via una scelta consapevole possiamo dire ma sai all'epoca avevo saputo tramite un mio caro amico che adesso sta in Australia che in Maserati cercavano un progettivo un disegnatore e avrei lavorato con l'ingegnere Caliri che era l'ex socio Caliri allora era in Maserati si parla della Maserati del Tommaso di quando c'era del Tommaso non di questa di adesso della Fiat e quindi io feci domanda la e mi presero buona hai colto quella nuova opportunità diciamo si 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 era un'opportunità molto più come posso dire molto meno affascinante della Formula 1 però almeno lì c'era la serie che tutti i mesi ti pagavano più stabile era più stabile perfetto e oggi di cosa ti occupi invece? ma dopo trent'anni che ho lavorato nel settore automotivo con anche un'esperienza di sette anni in Ducati mi sono sentito diciamo da un anno a questa parte mi sono sentito che volevo cambiare nel senso faccio sempre il disegnatore barra progettista però non nel settore automobile ho cambiato settore sul lavoro nelle macchine automatiche nelle macchine incartatrici io essendo della provincia di Ferrara avendo Bologna come centro come centro diciamo mondiale per quello che riguarda le macchine incartatrici impacchettatrici quindi diciamo che di occasioni ce ne sono e basta l'unica cosa è che sono dovuto ripartire da zero perché la meccanica è vero che la meccanica è uguale da tutte le parti ma non è vero che una macchina imballatrice ha le stesse problematiche di un'auto che sia questa da corsa o di produzione un altro genere diciamo è un altro genere insomma ecco per cui alla fine diciamo che io ho sfogato la mia la mia passione che ce l'ho ancora naturalmente guardo i Gran Premi vado vado al Minardi Day tutti gli anni vado a vedere altre gare però insomma alla fine diciamo che mi sono un po' calmato e ho ho cercato anche di avere una visione a 360 gradi nel mio lavoro non so tanto focalizzata su un settore su un aspetto specifico ho capito ma ti è capitato di rivedere qualcuno dei vecchi tempi Eurobrun magari dirigenti o colleghi ho visto un meccanico 3-4 anni fa a Monza che lavora adesso in una società di Parma lui fa sempre il meccanico ora è sì e mi lavora in questa società non dico il nome perché se no poi dopo ci siamo rivisti veramente cioè dalla fine all'inizio se io vi ho riconosciuto lui non riconosceva me poi mi sono rivisto molti anni fa mi sono rivisto con un altro ragazzo che era quello con cui avevo diciamo più confidenza interno del team questo qui lavorava questo qui facevi gran premio e adesso è diventato un pezzo grosso della Dallara USA quindi lui vive in Indianapolis e anche di questo non dico niente perché non voglio non voglio magari lui non può far sapere niente quindi si può intuire qualcosa comunque tra le etiche e siamo rimasti in buonissimi rapporti ci siamo ci siamo visti ormai una ventina di anni fa però ci siamo sentiti per telefono ogni tanto ci sentiamo l'ultima volta è stato un anno fa anche perché non è che proprio così ti ha detto telefoni come un tuo amico che sta a Ravenna o sta a Ferrara questo qui sta a Indianapolis quindi ci sono anche le differenze di orario queste cose qui però insomma praticamente ci siete e siamo rimasti in buonissimi rapporti c'è un altro due ragazzi che che facevano i meccanici che li ho rincontrati su Facebook e basta basta sì diversi diversi anni fa rincontrai anche Pavanello che mi salutò molto molto calorosamente e io ci rimasi anche abbastanza bene perché insomma dopo tanti anni che magari poteva anche benissimo non riconoscermi più anche perché non è che ho avuto un impatto devastante sull'Eurobrun ero 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 un ragazzino ero l'ultimo degli arrivati stavo lì buoni in un angolo facevo quello che mi dicevano e basta cioè insomma alla fine soddisfazione sì sono soddisfazioni anche perché poi dopo mi dissero che quando perché io andai via io diciamo che per gli addi non sono proprio così bravo io quando rompo rompo nel senso che ci dai un taglio ci do un taglio sia nei rapporti di lavoro che nei rapporti affettivi e purtroppo sono fatto così magari in questi anni sono anche cambiato però io senza litigare con Pavanello andai là gli dici che avevo trovato questa occasione che mi avevano chiamato i Minardi e quindi me ne andavo e non gli ho lasciato mezza parola perché lui potesse controbattere poi mi dissero nei mesi a seguire quando io ero già a Faenza che lui c'era rimasto male perché pensava di poter fare qualche cosa per potermi trattenere però io non gli avevo lasciato il tempo quindi questa è una cosa che voglio dire indirettamente mi fa piacere non per il fatto di averlo lasciato senza parole per il fatto che lui magari contasse in me poi dopo lasciamo perdere come è andata a finire l'esperienza in Oro Brunch e di quell'anno lì e ci sta trovando la chiusura però se lui in me aveva visto qualche cosa che poteva essere anche poter rimanere lì a lavorare per un altro anno diciamo che per me è stato un piacere sentirlo insomma certo per concludere oggi torneresti a lavorare per un team di Formula 1 se dovesse mai presentarsi un'opportunità beh sì però non sarà mai così perché il livello scelzato questo è diventato la formula ingegneri non è diventato non è più la formula non siamo noi che era molto artigianale questo è diventato la formula ingegneri per cui devi stare anche attento come parli quando sei in ufficio tecnico perché magari viene anche additato per l'ignorante del gruppo ignorante tecnicamente insomma del gruppo sì tu puoi portare l'esperienza però conta poco quello che conta è quello che sai al momento che non è quello che hai passato tu 20 o 30 anni fa io pito perché il livello si è alzato di brutto ed è giusto che sia così ed è giusto che sia così perché se no nell'evoluzione tecnica non ci sarebbe non ci sarebbe mai magari diciamo che secondo me in Formula 1 adesso si spendono troppi soldi per delle cose tipo l'eurodinamica che ok va bene però non deve non deve non deve essere così determinante come lo studio sulle sospensioni o che ne so il cambio vabbè che il cambio anche lui ha avuto una bella evoluzione però si potrebbe fare molto di più insomma diciamo che l'evoluzione c'è stata secondo me si potrebbe fare ancora meglio ho capito allora Paolo io ti ringrazio molto per questa bellissima chiacchierata motorsport sulla Eurobrun in particolare e alla prossima anche io ti ringrazio spero di non aver detto troppe fescerie non sono abituato ad essere intervistato però mi piaceva molto contribuire a parlare dell'esperienza Eurobrun perché è stata diciamo l'esperienza formativa della mia vita professionale così abbiamo fatto anche qualcosa di diverso possiamo dire grazie 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 a te e saluto tutti quanti quelli che guarderanno questo video grazie a te